Siamo qui oggi a Rimini in occasione del calcio a mercato, però noi stiamo lavorando già da un anno con una trasmissione legata ai colori della quarta serie con tantissime squadre dilettantistiche, saremo protagonisti per la seconda stagione, almeno ce l'auguriamo a partire da settembre. Cosa vogliamo dire ai nostri spettatori di Notiziero Calcio? Ok, che sarà un programma più arricchito di informazioni, di servizi, sarà arricchito anche di tanti ospiti, non soltanto direttori, allenatori o presidenti, ci saranno anche altri esperti della serie D, con tutta probabilità saremo anche su Digital RS, vedremo un attimo quello che verrà e avremo la nostra applicazione ufficiale. Esatto, sarà importante anche in stile un po' da zone dare anche alla quarta serie la possibilità di seguire in diretta questo programma perché gli spettatori riceveranno una notifica quei cinque minuti prima appunto per avere il tempo di potersi collegare e godersi la trasmissione come abbiamo fatto lo scorso anno, della durata circa di un'ora e mezza. Ci potrebbero essere delle novità ma ne parleremo più avanti con i nostri spettatori, per il momento diamo appuntamento sempre a martedì sera. Sì, ogni martedì da settembre fino al termine del campionato ci sarà il calcio di tutti, l'unico programma nazionale che racconta la vera realtà della D in Italia. Allora lo diciamo assieme? Mi raccomando, non mancate. Non mancate il calcio di tutti, Manuelli e Ilario Penzosi, il giornale opinionista.